sì ma oggi dovrebbe fare tutti i temporali così in giro per la svizzera per il cosi cosa ma da qua non arriva un tubo gli fa tutti alti verso di là in teoria meno stamattina c'è anche l'arietta bella fresca e non ci faccia schiattare a tutti sono già scappati tutti e in gelatita bene ma che bello che è diventato 10.48 sasso di ricordo del taglio c'è spazio in macchina c'è spazio in macchina c'è spazio in macchina sono indignato passo s Theresa lavoratori indefessi e si è dopo porto quelli più grossi